Ancora Marx, il suo spettro non ha smesso di aggirarsi per l'Europa e per il mondo e di seminare il panico presso una popolazione globale che pensava di essersi definitivamente affrancata da lui. Marx dunque come spettro inquietante e in effetti non appena si rifletta sul modo in cui viene tradizionalmente oggi sempre più spesso impostata la questione intorno al nome di Marx, non è difficile accorgersi come si orienti sempre nella forma del riscontro di un decesso. Marx è morto, questo è il modo con cui tradizionalmente si affronta la questione, riscontrando cioè la presenza di un morto, di un pensatore che non ha più nulla da dire rispetto al nostro tempo, un pensatore che appunto è rimasto sepolto sotto le macerie del muro di Berlino. Ma la domanda da porsi oggi nel tempo della crisi globale, e che è la domanda che personalmente vado ponendomi da qualche anno, riguarda l'effettiva portata di questo riscontro della morte di Marx. Dobbiamo cioè chiederci se questo riscontro della morte di Marx non sia in verità un esorcismo con cui si vuole mettere a morte un autore che più di ogni altro è ancora vivo e in grado di seminare il panico, denunciando con critica glaciale le contraddizioni di una società che continua a essere infetta dal morbo del capitalismo. Dunque, forse, chi dice che Marx è morto in verità lo fa per metterlo a morte, per mettere a morte uno spettro ossessionante. Appunto la forma in cui Marx è presente in mezzo a noi è la forma tipica della spettralità. Se ne dichiara la morte e non di meno le sue analisi, le sue diagnosi, la sua critica radicale della società capitalistica continua a fare appresa in fondo più di ogni altra critica. E in effetti Marx, per chi come me si occupa di filosofia, rappresenta un caso più unico che raro. L'unico filosofo di cui continuamente per un verso si annunci ipertroficamente la morte, Marx è morto come ricordavo, laddove invece di autori anche più vecchi di lui, non meno importanti di lui nel canone occidentale, nessuno si sognerebbe di ripetere ipertroficamente la morte. Nessuno si sogna oggi di dire per intendersi che Platone è morto o che Kant è morto. Come mai invece di Marx viene continuamente annunciata la morte? Ma in seconda battuta, l'altro aspetto che fa, potremmo dire, di Marx un caso unico nell'intero canone occidentale è il fatto che intorno a lui il discorso viene puntualmente polarizzandosi nella forma degli oppositori radicali, i nemici tukur di Marx, oppure dei suoi sostenitori radicali, quelli che vorrebbero, se non tornare a Marx, sicuramente ripartire da lui. Dunque Marx, dal mio punto di vista, può essere utile, quando non indispensabile, per affrontare un discorso serio che mette in questione il capitalismo come struttura dominante, il capitalismo come mondo storico in cui viviamo. E questo anche alla luce del fatto che, a partire dal 1989, data sineddo che della fine di un mondo e dell'inizio di un nuovo mondo, che per inciso non è il mondo della libertà e della democrazia come ideologicamente si contrabbanda, ma è il mondo dell'economia di mercato che domina nell'inedita forma di una società di mercato, in cui tutti i parametri vengono posti, sottoposti alle logiche mercatistiche, perfino la sanità, perfino i beni comuni, perfino la scuola, in cui la forma merce ci domina in maniera sempre più capillare. Ebbene, in questo scenario è bene tornare a riflettere su Marx. Marx come segnalatore di un incendio, segnalatore di una contraddizione di cui noi, dopo tutto, continuiamo a essere abitatori. Marx come defatalizzatore di un mondo che si presenta sempre più spesso con gli opachi contorni di un destino ineluttabile. Perché poi quello che caratterizza il mondo di cui siamo abitatori, a partire almeno dal 1989, sta nel fatto che il capitalismo tende a naturalizzarsi, tende a diventare come l'aria che respiriamo, tende ad assumere lo statuto ontologico della natura. La natura, appunto, in quanto data non può essere sottoposta a critica né a trasformazione, deve essere semplicemente contemplata, registrata e quindi accettata. Con formula spinoziana, nel libro prima citato, Minima Mercataglia, ho parlato di capitalismus sive natura. A partire dall'89, cioè, lo ripeto, il capitalismo diventa natura. Dobbiamo abitarlo senza nemmeno più nominarlo. E non è un caso che dal 1989 in poi lo stesso discorso sul capitalismo vada contraendosi fino a sparire. Di capitalismo non si parla nemmeno più, quasi come se coloro che volessero ostinarsi a parlarne fossero già in sospetto di mettere a critica un mondo non così naturale, non così naturale e logico come si pretenderebbe. Appunto di qui bisogna partire per sottoporre a critica un mondo che vorrebbe essere naturale. Certamente non mi sogno di sostenere che oggi, dopo tali e tanti mutamenti del capitalismo, si possa limitare il discorso al solo Marx. Non sono così, diciamo, ridotto nelle mie vedute. Penso però che chi oggi volesse interpretare il mondo senza partire da Marx, senza indossare anche le lenti interpretative di Marx, sarebbe perciò stesso votato alla cecità completa. Perché Marx per primo ha identificato con critica glaciale la logica segreta della struttura del mondo capitalistico, che è una logica che certo si determina economicamente, ma che è una struttura intrinsecamente filosofica. È la logica del voler avere di più, il furore dell'accrescimento, come lo chiamava Elia Scanetti, la logica della crescita smisurata ai danni del pianeta, della vita umana e dell'ecosistema. Appunto la logica del cattivo infinito, del non plus ultra della produzione, in cui ci troviamo al cospetto della prima società della storia umana, in cui non si produce per soddisfare bisogni umani, ma si usano i bisogni umani per mettere in movimento la fantasmagoria della megamacchina della produzione fine a se stessa. Movimento illimitato, anonimo e autoreferenziale. Questa è la stregoneria del capitalismo descritta appunto da Marx. E penso che in questo discorso siano essenzialmente due i punti irrinunciabili dell'analisi di Marx, da cui ripeto propongo di ripartire nell'odierna epoca della fine della storia sazia e felice, di cui appunto non è difficile vedere il carattere ideologico. L'epoca che si preannuncia è della nostra epoca come l'epoca della fine della storia, della fine delle ideologie, è un'epoca quintessenzialmente ideologica. Che altro è la fine della storia se non il movimento ideologico con cui il capitalismo si naturalizza ponendosi come non plus ultra dell'evoluzione storica, come se non vi fosse futuro. Ma poi il modo stesso in cui il capitalismo oggi si proclama, urbi e torbi, fine delle ideologie, non è forse perciò stesso il segnale che stiamo vivendo nell'epoca più ideologica dell'intera storia dell'umanità? L'epoca in cui Marx-Docet l'ideologia come movimento di resa invisibile del pensiero stesso come logica dominante viene portata a compimento, a tal punto da essere invisibile. L'epoca dell'unica ideologia dominante, il pensiero unico neoliberale, l'epoca del cosiddetto pluralismo in cui si dice al plurale sempre e solo la stessa cosa. Consumate e sopportate il mondo. Questa è la logica del capitalismo. E dunque dicevo due punti irrinunciabili dell'analisi di Marx da cui ripartire. Anzitutto la critica glaciale non arresa delle logiche dell'esistente, del mondo della produzione capitalistica come mondo storicamente e socialmente prodotto, quindi non come destino naturale e ineluttabile. E poi in secondo luogo, ed è un punto che solo astrattamente possiamo disgiungere dal precedente, Marx come teorico di una ulteriorità nobilitante, come potremmo dire teorico della più seducente promessa di felicità di cui la modernità sia stata capace, come ricerca di un plus ultra rispetto al mondo a struttura capitalistica, il mondo a morfologia capitalistica che si pretende intrascendibile. Parto rapidamente dal primo punto. Marx appunto ci insegna fra le varie cose due punti irrinunciabili all'interno di questa critica demistificante del capitalismo. Primo, che il capitalismo non è un destino. Secondo, che il capitalismo secerne continuamente una ideologia volta ad autolegittimare se stesso. Primo punto, il capitalismo non è un destino. Marx ci insegna, in questo erede della grande tradizione idealistica, in particolare di Hegel e di Fichte, ci insegna che il mondo storico del capitalismo ha una genesi sociale storica, ovvero è il prodotto della nostra libera attività pratica nel mondo, l'esito di una prassi. Appunto, prima tesi su Feuerbach di Marx ci dice che il mondo materiale non esiste come un oggetto da rispecchiare, ma esiste come l'esito di una nostra creazione nella storia. Quindi la prassi umana può sempre di nuovo trasformarlo. Non vi è nulla di definitivo, di ultimativo, di ineluttabile nella logica del mondo storico capitalistico. Primo punto, da cui poi, come ben si sa, nell'undicesima tesi Marx inferisce la necessità, che poi è una radicalizzazione di quanto già detto nella prima tesi, di trasformare il mondo. I filosofi l'hanno solo interpretato, bisogna trasformarlo. Questo, peraltro, non vuol dire che Marx, come spesso si è detto, instauri una polarità tra filosofia e trasformazione del mondo, come se la filosofia si limitasse a contemplarlo. Non è questo il punto. Marx instaura una polarità tra una filosofia adattiva, che si limita a contemplare il mondo, e una filosofia, invece, come la sua, che lo trasforma radicalmente. Questo è il punto da cui partire. E quanto vi è di attuale in questo discorso di Marx? Non dobbiamo dimenticarci che oggi il mondo di cui siamo abitatori è il mondo del capitalismo naturalizzato. Il mondo in cui viviamo i crolli della borsa, lo spread, le leggi dell'economia come se fossero leggi di natura. In cui i crolli della borsa si abbattono nella nostra vita come gli tsunami, con la stessa inevitabilità degli eventi della natura. Appunto, il dispositivo che Marx mette in atto, e che credo sia irrinunciabile per ripensare il nostro tempo, è quello di una defatalizzazione dell'esistente. Appunto, non è l'esistente un destino ineluttabile, ma è l'esito sempre riprodotto dell'attività umana, e dunque sempre da capo trasformabile, vuoi anche in via rivoluzionaria. Altro punto fondamentale, la critica delle ideologie. Marx ci insegna che il capitalismo, per autolegittimarsi, per autosantificarsi, deve continuamente secernere forme ideologiche. Forme ideologiche che in qualche misura sono sempre finalizzate alla presentazione del capitalismo come intrascendibile. La critica delle ideologie è in qualche misura il destino, potremmo dire, irrinunciabile di Marx, il lascito irrinunciabile di Marx. Si tratta appunto di ritornare nel laboratorio critico della denuncia del capitale, ereditando consapevolmente la denuncia critica delle ideologie del nostro tempo. Aggiornando il discorso di Marx, o come avrebbe detto Gramsci, portandolo all'altezza dei tempi, è bene vedere come l'odierno panorama della globalizzazione sia un panorama intessuto da ideologie, in cui la costellazione ideologica è infinitamente più ampia e pervasiva rispetto ai tempi di Marx. Per costellazione ideologica si possono fare qui moltissimi esempi. La stessa idea di globalizzazione, cantata urbi e torbi come se fosse una cosa puramente descrittiva, ha intrinsecamente un valore ideologico per il semplice fatto che in realtà, dietro alla semplice forma valutativa della descrizione, impone in verità una coazione all'adattamento alla globalizzazione. Quando leggete globalizzazione dovete leggere in realtà l'imperativo popoli di tutti i paesi globalizzati. Quel che la globalizzazione non dice è il fatto che nasconde pudicamente, dietro la parola anodina globalizzazione, la logica di estensione planetaria del codice della forma merce, l'imposizione del mercato come solo destino intrascendibile. Appunto si tratta di ripartire da questa critica delle ideologie di cui appunto oggi assistiamo a un trionfo incontrollato, ipertrofico. Di tutte le ideologie che popolano l'odierno cosmo postmoderno, la principale probabilmente da cui tutte le altre discendono a cascata è quella della intrasformabilità del mondo, che poi si condensa, come ben sapete, nella formula preferita dei politici. Non ci sono alternative, non si può fare nulla e in effetti questa è la matrice di tutte le ideologie del capitalismo. Per la prima volta con il mondo capitalistico il potere non pretende di essere perfetto, anzi fa aperto vanto della propria imperfezione. Al tempo stesso però nega alla partenza la possibilità di vie alternative. Il capitalismo non mira a convincere le nostre menti circa la sua bontà, semplicemente nega in partenza la possibilità di alternative, presentandosi perciò stesso come il solo mondo possibile, perché già naturalmente da sempre dato. Appunto qui si deve innestare il lavoro della critica, le armi della critica, come le chiamava Marx e come credo dobbiamo oggi tornare a chiamarle e a riappropriarcene. Appunto la società non è un solido cristallo, diceva Marx. Il nostro mondo continua a essere infettato dalla contraddizione capitalistica, quella contraddizione che soltanto l'ideologia economica, l'economia come vera e propria teologia della disuguaglianza sociale, non riesce a mettere in luce. Se tu guardi al capitalismo con le lenti dell'economia, esso figura effettivamente come il trionfo della razionalizzazione. Razionalizzazione dei profitti, gestione razionale delle imprese, amministrazione razionale del patrimonio delle risorse umane, o voi anche del capitale umano, come appunto con formula ideologica sempre più spesso si dice. Ma è solo da un punto di vista olistico, della totalità filosofico, che il capitalismo rivela la sua natura di contraddizione in processo, la definizione di Marx. Contraddizione in processo perché appunto la ragione filosofica ti mostra nel capitale non già il mondo disincantato e razionale che diceva Weber, ma ti mostra invece il mondo dell'alienazione, il mondo in cui i veri signori sono le merci, queste entità sensibilmente sovrasensibili, diceva Marx, e gli uomini sono puri mediatori di merci. L'umano diventa cosa e le cose, i prodotti della mano umana, le merci, diventano i veri soggetti. Il mondo in cui appunto l'uomo è sbilito a una pura merce. Questo è lo scandalo e la follia del capitalismo. L'umano che viene mercificato e le merci che diventano soggetti umani. I morti dominano i vivi, dice Marx. Di qui credo che sia fondamentale ripartire in questa critica, critica dell'economia politica, dove appunto è interessante l'aggettivo che Marx pone. Critica dell'economia politica. Cioè Marx smaschera già in partenza l'ideologia oggi dominante, secondo cui l'economia sarebbe altra cosa rispetto alla politica. Ma l'economia è essa stessa la politica. Prova nel fatto che oggi la politica viene totalmente permeata dall'economia. La politica oggi è puramente l'esecutrice dei compiti imposti dall'economia. I politici oggi sono semplicemente gli esecutori di ciò che le grandi imprese multinazionali impongono, destrutturando i residui stati nazionali, imponendo come sola logica possibile quella del mercato globale. Marx appunto come defatalizzatore dell'esistente e come critico di questo mondo sensibilmente sovrasensibile della forma merce. Ma poi c'è il secondo punto che è strettamente, come ben capite, connesso al primo, che è quello di una ricerca di un'ulteriorità nobilitante. La volontà incondizionata di rifiutarsi di accettare ciò che siamo come se fosse un destino intrascendibile. Riapertura del futuro, se volete. Ridialettizzazione del presente. L'idea, cioè, è quella che bisogna lottare contro questa ideologia dell'intrasformabilità del mondo e che sia ideologica e provato non solo dalle frasi dei politici, che forse a ben vedere si compendiano già in quella frase di una canzone degli anni 60, è stato bello sognare e non c'è più niente da fare. Ma appunto anche nel dibattito filosofico, quello in cui io sono più addentro, assistiamo a un proliferare ideologico di queste forme. Il dibattito surreale intorno al nuovo realismo, il nuovo realismo come filosofia del governo Monti, che impone la realtà come un orizzonte intrascendibile, ma poi anche le varie forme di filosofia che impongono la sopportazione del mondo. Se sei in dissidio con il mondo, se sei in contrasto con le logiche dell'esistente, è te stesso che devi cambiare. Non il mondo. Logica già descritta addirittura agli albori della modernità dal discorso sul metodo di Cartesio. Morale provvisoria. Cambiare i miei desideri piuttosto che l'ordine del mondo. Ebbene, Marx in tutto questo ci riapre la possibilità, almeno la pensabilità a livello teorico, di un futuro diverso, strutturato altrimenti, rifiutandosi di accettare il presente come intrascendibile. Marx dunque come riattivatore del futuro, della possibilità, ma poi Marx anche come teorico di una coscienza infelice. Quel che caratterizza Marx, al di là di tutto, è l'avere una coscienza infelice rispetto al proprio presente. Il cercare in una ulteriorità nobilitante la possibile realizzazione delle potenzialità del genere umano. Questa coscienza infelice è ciò che oggi più manca, naturalmente, nell'odierno scenario e che, e con questo veramente concludo, si può ben compendiare in una frase di uno degli allievi più eterodossi e brillanti di Marx, Ernst Bloch, che così poneva la domanda nel suo principio speranza e che noi dobbiamo oggi ereditare. Che cosa ha spinto alla bandiera rossa, quelli che per così dire non ne avevano bisogno? Grazie.